Ciao bellissime, sono tornata con un nuovo video e questo sarà un video Ruloti tamburit Giveaway, 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 giveaway Avrei dovuto farlo prima ma la mia malattia per anni, io sto sempre male Tra raffreddore, tra influenza intestinale, tra influenza normale, io sto sempre male E fa pure, eh? Rima Comunque, questo giveaway comprenderà fine dell'anno Befana, andrà ai miei oltre fino a fine gennaio perché non ci sarò per dei giorni E non credo che riuscirò a farlo finire prima E tra l'altro non ho neanche deciso la data, aspettate un attimo Ok, ci sono Sono rimbambita Allora, ho fatto i conti, ho guardato anche con mia mamma Allora, venerdì 6 febbraio chiuderà questo giveaway Quindi dura all'incirca un mese Forse qualche giorno in più E niente, sarà un po', per me è un regalo di Pasqua, buonanotte Capodanno E basta È un regalo di della Befana, un po' in ritardo Insomma, un giveaway ragazze È un solo il solito giveaway mio Quello di Natale l'ho fatto La ragazza l'ha ricevuto, è piaciuto Quindi mi fa molto piacere Vi dico le regole C'è una cosa di diverso questa volta Allora, chiude il 6 febbraio a mezzanotte Allora, le regole sono Essere iscritta al canale Scusatemi, ma casa mia non è casa mia se non vengo interrotta 50 volte Comunque, essere iscritta al mio canale Mettere mi piace al video Facoltativo, metterlo tra i preferiti, come volete Condividere su uno dei social mi fate un favore O su Facebook, o su Google+, come vi è più comodo Se non lo avete, non fa niente Non mi chiedete poi nei commenti Ma se non ho Facebook, posso partecipare? Sì che puoi partecipare, fa niente Mi fate un favore a me, fate girare di più il video Quindi condividere sui social Mettere mi piace alla pagina Facebook Del quale vi lascerò il link qua sopra E anche già nell'info box Poi, mettere massimo 15 commenti numerati, per favore Io metto sempre un massimo di commenti Quindi massimo 15 commenti numerati Ecco la regola in più Mi farebbe piacere che uno di questi commenti comprendesse una domanda Una domanda su qualcosa che volete sapere di me Perché io ho intenzione di fare un video su quale Sicuramente mi sono state fatte le domande Però ancora non sono tantissime Allora ho detto, facciamo questa cosa qua Ragazzi, nei 15 commenti almeno un commento deve contenere una domanda Su cosa volete sapere di me Su di me Volete farne anche più di una, quante ne volete Su qualcosa che volete sapere sulla mia vita e quant'altro Dovete esserci un commento che riguardi una domanda Poi, se volete fare 25 domande, fatele Però, ecco, siamo capiti Poi, per favore, i commenti non me li fate Ci sono, partecipo o quant'altro Se non vi va di partecipare Perché io metto questa regola di non fare un commento Ci sono, partecipo Io non li voglio quei commenti Perché? Perché la gente li spamma E io devo stare 300 ore a cliccare a ogni commento per accettarlo Non li fate Cioè, se uno mi scrive ciao Non neanche ci tiene a partecipare al giveaway Cioè, capito? Quello che dico Scrivi qualcosa di sostanzioso Voglio partecipare al giveaway I miei prodotti Grazie Non, sì, solo, sì Aha, va, vi, ci, partecipo Questo intendo Essere residenti in Italia Consenso dei genitori Se siete minorenni e quant'altro, ok? Quindi essere iscritta nel mio canale Mettere mi piace Facoltativo mettere nei preferiti Condividere sui social Mettere mi piace alla mia pagina Facebook Massimo 15 commenti numerati Un commento deve essere riguardante Dovranno esserci delle domande su di me E poi essere residenti in Italia E no commenti corti Ok Passiamo ai premi Non so quanti sono Non ne ho contate a sto giro, ragazze Comunque, i premi saranno contenuti in questa pochettina Che io avevo preso al Casanova dell'Iper Con Con Questo forse è con mia cugina Quando ho acquistato qualcosa Insomma, potete prendere le cose a un euro E io mi ero presa questa Anche insieme a altre collanine E forse qualcosa che vi ho messo qua dentro Questa pochettina Che può essere usata anche come borsettina Molto carina Ispirata ai cartoni Ai fumetti E vi faccio vedere quello che contiene Sono meno prodotti di Natale Però comprendetemi, ragazzi Non è che navigo nell'oro Quindi Mi sono impegnata Allora, vi ho messo Questi stickers Nail Foils Professional Nail Care Questi qua Con questi bellissimi cuoricini Su rosa e nero In rosa sono glitterati Non glitterati, metallizzati Mentre i neri sono opachi No, opachi Opachi Questi qua comunque Questi sono i campioncini No, vabbè Li tengo loro, i campioncini No, vabbè Li dico adesso i campioncini Perché mi llevo di mezzo Allora Abbiamo Un fondotinta Un fondotinta Antinta della Bottega Verde Un fondotinta Idratante Noccio Asfert Della Bottega Verde Un campioncino Di profumo di Fendi Così Non so se da uomo O la donna Più se sia da donna E due di Jimunshi Così Non so se c'è qualcos'altro Vedremo Poi vi ho messo Questo Eyeliner In penna Che avevo comprato Se ricordate per voi E quando sono andata in Calabria Questo settembre-ottobre Questo qua La marca è Bolli 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 Insomma Bolli Bolli E Io con questo Mi ci trovo Bene Abbastanza bene Nessuna fame Nessuna donna Insomma È un eyeliner in penna Niente di che Però è carino Cioè A me mi resiste parecchio Sull'occhio Quando lo strucco Mi rimane A volte un pochino Se non lo strucco bene Mi rimane sulla palpebra Poi vi ho messo Questo gloss Della Catrice Giusto sì Ed è Lip Apple Moisturized Shine Smoothing Lip Gloss Ed è il 190 Nude Tritios 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 Che ne so Comunque questo Ramato super glitterato Cioè Veramente bello Come colore Poi vi ho messo Una palettina Dell'HQ Questa qui Che io purtroppo Non ho in questa colorazione Per farvela vedere È la Ultra Radiance Overetto Illuminante Ed è il 4 E ve la faccio vedere Perché se no Non ho come farvela vedere Dovrebbe essere Quella sul tono del grigio Non sono sicura Dove ti apri qua Sì esatto Sì Grigio scuro Quasi Nero Con un Bianco satinato Quasi Non bianco Più che un bianco Ed è Un champagne Diciamo Un crema Chiaro Quindi questa Poi Questa Due di maschere Sapete che vi metto Sempre una maschera Questa è la fragola Praticamente Sono due dosi separate Della Balea Balea che è comprata Dal DM E in Germania Per chi spesso Vado in Germania E le compro Poi Abbiamo Una crema Viso Della Bottega Verde Questa qua Mini formato Da 20 ml Che comunque Tanto mini non è Crema attiva Rivitalitrice Di luminosità Levigante Antietà Con PGG5 Acero rosso Viso giorno SPF 15 Questa qui Poi Un ombrettino Ed è questo qua Della Issy Che avevo sempre Preso per voi Questo è un color Azzurrino Che vira un po' Lilla E ha veramente Un bel colore Del 209 Io di questi qui Ho altri colori E scrive da dio Poi vi ho messo Un mascara E vi ho messo Questo qua Della C'è scritto Ce la posso fare Della Debbie Ok Cos'è? Aspettate Light mascara Extra back Mascara Mascara super allungante Dovrebbe essere Una mascara Super allungante Per ciglia Questo Se non sbaglio Ha lo scopolino Fine Non dovrebbe Averlo grosso Perché chiesi Appunto Uno scopolino Fine La commessa E sto gloss Mi dà un po' Si nervi Mi dite questo Allora Poi ho Uno smalto Questo qua Della Maybelline Vi ho messo Che è un Un bianco Perlato Cioè un bianco perlato De Express Finish 40 secondi Dovrebbe asciugare In 40 secondi È un bianco perlato Poi vi ho messo Appunto Questa crema Che avevo comprato Sempre per voi Della Roji Ed è la crema corpo Nutriente Vellutante Alburo di karité E olio di jojoba Queste sono Ben 150 ml Di prodotto E niente Questa per voi Come anche tutto il resto Perché la sto facendo Vedere un giveaway Intelligente Poi Il pezzo grosso Lo tengo alla fine Due bijoux Sempre che vi ho detto Che io ho presi Da casa nuova Quando comprei Tra mia suocera E tra Anche mia cugina Una volta Il braccialetto Di cui mia suocera Questo forse Come la cugina Allora Questa collanina Praticamente è un girocollo Oppure la potete portare Un pochino più lunga Ma secondo me Sta molto meglio Come girocollo Ce l'ho anch'io E la volta che l'ho messa L'ho messa con girocollo Perché sta meglio Perché sta meglio Secondo me Aspettate Ok E' fatta così In perline Diciamo che Ha disegni Abbastanza semplici Ma è molto molto carina Ed è questo Colore Antracite Molto bello E poi vi ho rimesso Questo bracciale Così Come lo faccio vedere Così Questo bracciale qui Con questi punti luce Vedete Quadrati all'interno Molto molto carino E come punto finale Io vi ho sempre regalato No c'è un altro campioncino Vi ho sempre regalato Quest'altro di Bottega verde Ha un profumo Dei giardini toscani Vi ho sempre regalato Palettine Però Non mai tanto grosse Questa qui è un attimino Più grande Vi ho preso Questa palettina Di Bella Oggi Della Luxury Ragazzi Quanto non è bella Sta palette Io l'ho vista lì Esposta Ho detto Non volevo prendere questa Ve la devo far vedere dentro Ve la voglio far vedere dentro Perché Qua sembra una cosa Da dentro È tutta un'altra cosa È tutta un'altra cosa E tanto non la tocco Né niente Stava parlando la scatola Allora Prima di tutto Il packaging Spendiamo un secondo di silenzio È uno di quelli Che se fate le ditate Ragazzi Ci rimangono Infatti Mi stanno rimanendo le ditate a me È lucido Sopra e sotto E nel centro È opaco Ok Con scritto Luxury Già Il packaging è molto bello E oddio Apriti Io ho un seri problemi Con le aperture di queste palette Fu così che si ruppe un dito Allora Tanto c'è la plastica Sì c'è la plastica Allora vi faccio vedere Allora One moment 12 ombretti Quattro blush E due ciprie Cioè guardate cosa non è questa palette Ah Gli ombretti non rendono per niente Ma questo colore è qualcosa di spettacolare Questo viola è bellissimo Questo oro Questo azzurro Questo tils Sono qualcosa di spettacolare E ovviamente avete il vostro specchio Vi faccio vedere come appare così Ok E niente ragazzi Questo è il giveaway Anche la pochette compresa appunto Spero che vi sia piaciuto È leggermente più piccolo del solito Voglio dire Adesso contiamo i pezzi Perché li conto sempre Però è leggermente più piccolo del solito Però comprendetemi Ogni tanto Non è che posso sempre fare Giveaway da 30 pezzi Allora Pochette 1 2 e la palette Tra l'altro Che casino per spedire l'ultimo pacco Non vi dico Ho fatto la bustona gigante Che faccio di solito Vado in posta E no Non puoi spedirla con questo Perché c'è un oggetto Che supera i 5 cm d'altezza Che è il puff di Kiko Di conseguenza Devi spedirlo per forza con scatola E con scatola Ti costa ben 12,90 euro Io Sono rimasta tipo storpiata Ho detto Ma scusami Eh sì C'abbiamo le nostre scatole Poi usare le nostre scatole 12,90 euro Scusa ma se uso una scatola mia Ah no Se uso una scatola tua Mi ne è poco meno di 10 9,90 Se no La faccio con la scatola mia Signora Non c'è bisogno Che usa la sua scatola Che ho scritto solo posta Eh Vabbè Comunque Pochette Palette Ah sì Volevo farvi vedere Che è il vernice francesca La marca della Pochette Allora La pochette La palette E la crema Sono tre Quattro La maschera Cinque Lo smalto Sei l'altra palette Sette il mascara Otto il bracciale Nove la collana Dieci il blush L'ombretto 11 la cremina 12 il gloss 13 l'eyeliner E 14 i stickers per le unghie Quindi sono 14 premi Più vabbè I campioncini Niente ragazze Spero che questo giveaway vi piaccia Che parla in italiano Niente Spero che vi piaccia Appunto Il giveaway Chiude il 6 febbraio A mezzanotte Sempre la solita storia Poi caricherò un video Dove farò vedere Chi è la vincitrice Essere iscritta Al mio canale Mettere mi piace Se volete Se volete Mettere nei preferiti Condividerlo Nel social Facebook Google Plus Quale vi piace Di più a voi Mettere mi piace Alla mia pagina Facebook Massimo 15 commenti Numerati Uno Deve essere una domanda Su di me Fatemi una domanda Essere residenti In Italia Con senso di genitori O maggiorenni E no commenti corti Niente ragazze Vi mando un grande bacio E mi raccomando Commentate Partecipate Iscrivetevi Vi voglio bene E soprattutto Buon anno Perché questo video Lo caricherò Il 29 Non lo so Quindi se non esco A caricare un altro video Anche se devo fare Il trucco di capodanno Quindi ci riesco Però vi dico Buon anno lo stesso Un bacione ragazze